Arrivato un nemico, attacchiate! Arrivato un nemico, attacchiate! Arrivato un nemico nell'area! Arrivato un nemico in arresto nell'area! Basta giocare! Prepararsi al lancio sulla zona di guerra! Ritorno! Ormai il gas è troppo vicino, alla zona sicura! Resistete fino allo scadere del timer per rientrare liberamente! Accumulate punti per accelerare il costo all'arrascia! Arrivato un nemico, attenzione in alto! La priorità è uccidere tutti i medici! All'attacco! Il servizio della stagione in tutto il consapevole del rischio. Un bel tema non spessi mai! Un bel tema! Un bel tema! Losa ricordano! Un bel tema! 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 sta arrivando un nemico attenzione in alto non è ancora finita puoi tornare in azione abbatto il tiratore il gas è sempre più vicino sta arrivando un nemico attenzione in alto c'è una cassa di scorte andati a prenderla attenzione in alto attenzione in alto alla nuova zona sicura gas in arrivo attenzione in alto attenzione in alto attenzione in alto Ne restano solo 25. Sta arrivando un nemico! Attenzione in alto! Rialzati! Il gas è sempre più vicino! Cassa di scorte disponibile! Nemico in arrivo nell'area! E' un po' di scuola! E' un po' di scuola! Il gas si avvicina, tassi delle stazioni di acquisto ritoccati, cassa di scorte disponibile. Ti riportiamo in prima linea, tassi dentro. Nemico in arrivo nell'area. Occhi aperti, la finestra di ritorno sta per chiudersi. Tassi terminati, presti tornati alla normalità. Il gas è sempre più vicino. Ti comincio! C'è un soldato nemico! Ritorno non più disponibile. Fatti valere! Gas in avvicinamento, nuova zona sicuro! 10 rimasti, si può vincere! Il gas è in movimento! Basta perdere tempo, all'area bersaglio! Basta perdere tempo! Basta in cinque! Basta in cinque! Basta in cinque! Obiettivo perso! Contratto annullato! raggiungeremo! Cassa in avvicinamento, nuova zona sicura! Gas in movimento! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.